Codoria da Torino, giornata uggiosa e piovosa con la consueta diretta. Oggi si parla ovviamente di social selling, sto portando avanti questa battaglia incredibile nel social selling, ma oggi nello specifico vorrei parlare di una tecnica che si chiama E dopo. E dopo? In realtà, per chi mi segue già da un po', utilizzavo già una tecnica, la tecnica del e quindi, no, che è semplicemente un modo, quando si scrive, quando si fa copywriting soprattutto, soprattutto copywriting è risposta diretta, quindi quando cerchi di scrivere un qualcosa cercando una risposta immediata, un'azione immediata del customer, del cliente e quindi è una di quelle cose, quelle domande che tu devi fare quando stai strutturando un qualcosa, un messaggio, ecco, quando stai creando una comunicazione, quando stai costruendo un messaggio, la tecnica è quindi una di quelle cose che ti serve per andare avanti. Oggi parliamo invece della tecnica E dopo. La tecnica E dopo in realtà è una di quelle cose che mi servono per capire quando controllo, quando vedo come funziona il flusso di lavoro di un mio cliente, soprattutto se si tratta di social selling. Io vi volevo ricordare chi sono e cosa faccio, diciamo che negli ultimi anni ho aiutato centinaia, vorrei dire migliaia, che è la cosa più giusta, penso sono circa 8.000 le persone che hanno scaricato il mio materiale, ho fatto il mio corso, frequentato il mio corso, comunque più o meno è quello, ho aiutato le persone a creare un business sui social, quindi costruire un business sui social, partendo dai social, ok? Si tratta sempre di marketing, ma con una visione più specifica sui social che oggi sono, come dico sempre, il punto, il pozzo migliore dove andare a pescare clienti. Benissimo, quindi cosa significa e cos'è la tecnica E dopo? Allora, quando guardiamo il flusso di lavoro, di comunicazione, di educazione che hanno i format in generale, cioè per dire, quando faccio un esempio, faccio sempre un riferimento a me stesso, questi video, queste dirette servono per educare le persone che guardano la diretta a comprare, ok, i miei corsi, ok? Faccio un percorso educativo, do contenuti gratuiti, do soluzioni, ok? Sono qui, il mio posizionamento è ti insegno a diventare social seller, quindi a vendere sui social in maniera chiara, efficace, senza troppi pipponi teorici, cioè ti dico quello che devi fare, soluzioni chiare, pratiche e che funzionano. Questo è il mio posizionamento, no? Quello che faccio è darti contenuti gratuiti, per dire, oggi guarderemo la tecnica E dopo, oggi è la tecnica E dopo, è un contenuto gratuito. Sembra una stupidaggine, no? Però attenzione. Cosa significa verificare il flusso di lavoro? Allora, tu guarda quello che sto facendo, come dicevo, no? Il mio funnel educativo, ovvero ti porto da un perfetto sconosciuto a diventare mio cliente, comprare più di una volta, ma soprattutto diventare mio fan. Quindi ogni passo che faccio, ogni gradino che vado a fare, ha un seguito. Da che sei cliente sconosciuto, c'è un seguito che devo portarti a essere un cliente, un cliente ricorrente, ma soprattutto farti diventare un fan. Quindi ogni azione che faccio deve avere un E dopo. Ecco, ora ti rigiro la domanda. Nella tua strategia di comunicazione, cioè quello che tu fai per contattare, comunicare, istruire, nutrire, come la vuoi dire ai tuoi clienti, hai sempre la visione del passo successivo? Per esempio, supponiamo che tu sia un elettricista, ok? Che tu venda un pacchetto di check-up dell'impianto elettrico sul web, piuttosto che ti vuoi far telefonare a casa. Abbiamo l'esempio di Michele che fa una cosa del genere. Ecco, in questo preciso caso, cosa fai? Dal momento in cui comunichi, fai una pubblicità, fai una sponsorizzata, qual è il tuo E dopo, ok? L'errore che vedo spesso è che si fanno delle pubblicità sui social senza senso. Ecco perché nel corso gratuito smettila di fare le ads, dico appunto smettila di fare le ads. Smetti di fare le ads perché se non c'è un seguito, un flusso di lavoro costante, un funnel di lavoro costante che porta il cliente da sconosciuto a fan, automaticamente stai bruciando soldi, stai bruciando budget. Per dire, se tu facessi solo una sponsorizzata ciao, questo è il mio nome telefono, sono elettricista, è difficile che sul web, soprattutto sui social questo funziona, perché come dico sempre, infatti anche il corso le ads non servono un razzo per capirlo bene, viene spiegato in maniera specifica e viene fatto vedere il caso studio. Non funziona sui social. Sui social c'è un metodo di comunicazione differente, devi avere un funnel, un flusso di comunicazione differente, educativo, che abbia sempre un e dopo. Per dire, tu fai video sulla tua pagina, ok, e dopo cosa succede? Quando hai dato un messaggio, dopo questo messaggio, cosa si dovrebbe fare? Cioè qual è la conseguenza del messaggio che stai dando? A quale scopo stai dando questo messaggio? Non può essere dato un messaggio fine a se stesso, tipo le pubblicità attappiccicate ai cartelloni? Ciao, vendo cessi, invia mazzini. Non funziona così, non funziona così assolutamente, perché non c'è un e dopo, quindi non c'è un seguito. Tu devi essere bravo a ricreare un flusso di azioni che continuerà a fare il tuo potenziale cliente o il tuo cliente, in questo caso dipende poi da dove si trova nel funnel, per far sì che questo vada avanti, vada avanti e tu ne possa trarre profitto, cioè possa avere un guadagno da questo. Ecco come si vende sui social, come si fa profitto sui social. Vuoi fare soldi sui social? Devi sempre avere il tuo potenziale cliente, oppure il mucchio di potenziali clienti, perché una cosa che pochi dicono e che pochi vi diranno è che qua si ragiona a blocchi, cioè il blocco dei tuoi potenziali clienti ha un e dopo? Cioè cosa deve fare nello step successivo? Cosa lo sta istruendo a fare? Intanto che si è connesso qualcuno, oggi è un orario un po' del cazzo, scusate ma a breve ho un impegno, quindi faccio la direttina prima, tanto il contenuto rimane, poi chi vuole se lo vede dopo, se no bruciate il monitor, chi se ne frega. Ditemi solo se si sente l'audio, per favore, voi che siete connessi. Soprattutto mettete qualche like, così la pagina si pompa, fate share, condividete sto video, tirchi, come se per mettere un like dovesse mettere un euro, ok? È gratis, io sono qua a sgolarmi gratuitamente per voi, voi neanche mi mettete un like, in cambio, eh? Tirchi maledetti. Comunque, detto questo, quindi, quando tu fai un messaggio, fai una campagna social, fai un qualsiasi cosa sulla tua pagina Facebook, o comunque mandi un'email, fai la tua presentazione nell'albergo con il tuo architetto perché ti hanno invitato, bla bla bla, ecco, in tutto questo devi avere sempre un e dopo. Quindi, il tuo lavoro, tu fai soldi, in sostanza, perché tu riesci a far fare qualcosa al tuo potenziale cliente, al tuo cliente, ok? Lo ripeto meglio, forse non si è capito, tu fai soldi perché sei in grado di far fare un'azione al tuo potenziale o cliente, ok? O potenziale o cliente. Quindi, tu sei capace a fargli fare un'azione, in questo caso comprare, automaticamente fai soldi, ok? Per fare soldi sui social, come funziona? Devo essere bravo a far fare azioni ripetute al mio potenziale cliente. Per fargli fare queste azioni ripetute, ragazzi, bisogna, bisogna avere sempre un dopo. Quindi, crea un video, questo video deve educare la persona a fare una determinata cosa. Non possiamo fare cose a se stessi. Per dire, io devo sempre ripetere il mio posizionamento, devo sempre ripetere quello che vendo, devo sempre ripeterti perché dovresti comprare da me piuttosto che un altro, devo sempre dare soluzioni ai tuoi problemi, devo sempre far capire che io sono sul pezzo, insomma, c'è tutta una serie di cose che deve esserci sempre nella mia testa per dirti e dopo cosa devo fare? Per dire, io faccio le dirette, ma dico sempre, ricordo sempre di scaricare il video gratuito, il videocorso gratuito che trovi su marcodoria.com nella risorse gratuite. Lo dico sempre e non me ne vergogno, io vi devo insegnare le tecniche, quindi devo farvi vedere. Ok, ragazzi, dovete vendere, si vende sempre, qualsiasi cosa voi facciate è per vendere. Non abbiamo le disponibilità economiche delle grandi multinazionali che possono permettersi di fare pubblicità di merda in televisione che non servono niente e quindi a forza di farle dopo dieci anni ti entrano nel cervello. Noi dobbiamo fare qualcosa che smuove il prima possibile il nostro potenziale barra cliente. Quindi, prima lo fa, meglio è, perché non abbiamo budget. Io stesso, che sono un piccolissimo stronzo che vende informazioni digitali, ha dei business digitali, imprenditore digitale, quello che volete chiamarmi, non lo so, non ho il budget in advertising per farmi solo conoscere. Io devo sempre vendere ogni volta che apro la bocca. Vendere il mio posizionamento, vendere i miei prodotti e servizi, insomma, vendere. Ed è la stessa cosa che dovete fare voi. È chiaro che non siamo qua a ricattare compra, 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 perché non funziona. Però la reciprocità è che io ti do comunque tantissimo valore. Cioè, ragazzi, mettersi lì tutti i giorni, avere un format in diretta tutti i giorni, quello che sto facendo in questo periodo è un lavoro che comunque richiede impegno, richiede tempo, richiede precisione, non posso contraddirmi, anche se a volte purtroppo capita, si fanno io, sono umano anch'io, però è un lavoro, ok? E il mio lavoro è vendere, vendervi informazioni e darvi nel contempo un format gratuito da seguire, perché soltanto la minima parte di chi mi segue alla fine comprerà il mio corso. È la minima. E questo succede anche con i tuoi potenziali clienti. Tu devi sempre sapere che sarà soltanto la minima parte delle persone che ti seguono a diventare tuo cliente e sempre la più piccola parte a diventare un tuo cliente premium piuttosto che un fan. Per dirvi, adesso io vendo, sto vendendo questi piccoli webinar, ok? Dal valore di 79 euro. Chiaramente questo valore, io l'ho già raddoppiato per dire, le ads non servono un razzo, già costa 147 euro, ok? Soltanto se ti fai il corso gratuito lo puoi avere in promo. Come funziona? Una volta che ho creato questi prodotti adesso, sto passando allo step successivo. Quindi toglierò questi prodotti dal mercato, ne lascerò uno, adesso vedremo, comunque a prezzo sicuramente più alto, e creerò un'academy. Un'academy che ti servirà per imparare a costruire il tuo business online, quindi avere l'assistenza che ti serve per creare un business online che funziona, quindi completo, 100%, e sarà un'academy appunto che avrà dei corsi, avrà sette corsi principali, ogni corso principale avrà delle sottocategorie, sarà un maloppo di roba, però è completo, ok? Dall'inizio alla fine. Ancora, se vuoi diventare un mio cliente premium e vuoi la mia consulenza, tutto questo costa il doppio. Quindi costa mille euro l'academy, duemila euro costa l'academy più la mia coaching in studio. Tanto è, questo funziona. Quindi l'educazione, cioè non c'è nulla, è trasparente. Devo sempre avere un e dopo, ok? E dopo cosa posso fare? Questa è tutta una serie di cose che tu devi avere, in qualsiasi business devi avere. Tra l'altro adesso, proprio per onore di cronaca, sto costruendo l'academy e nell'academy sto facendo, sto creando un business nuovo. Sto creando un business nuovo che sto documentando nell'academy. Quindi quello che io farò non sarà darvi teoria, ma sarà darvi una, qualcosa di pratico che io sto facendo. Tutto completo, completo. E poi questo sarà un mio business nuovo. Quindi ho avuto l'idea di creare, diciamo, un caso studio mentre lo faccio. E questo è importante, è importante anche per voi nel, nel, quello che fate. Quindi avere sempre un e dopo. E come si crea un e dopo? Voi magari state pensando, e come si crea un e dopo? Dovete avere la visione nell'insieme. Lo scopo finale, ok? Lo scopo finale deve essere sempre un prodotto back-end ad alto margine. Quindi voi dovete vendere, pubblicizzare, fare marketing su prodotti ad alto margine. Cioè potete fare un prodotto di entrata front-end a basso margine per attirare le mosche, come si dice. E poi però dovete avere un prodotto ad alto profitto che va a una piccola percentuale. Vi spiego meglio. Faccio sempre l'esempio del cinema. Quando tu vai al cinema credi di comprare il biglietto, l'ho detto anche l'altro giorno, credi di comprare il biglietto del cinema. Ma sul biglietto del cinema non ci guadagna niente il gestore del cinema, anzi ci va in perdita. La verità è questa. Non ci guadagna sul biglietto. Dove va a guadagnare il cinema? Il cinema guadagna sulla somministrazione di cibo e bevande. E quello è il vero margine alto, perché ha un profitto della madonna. Il ristorante, pochi lo sanno, non guadagna, non ha il profitto massimo sul cibo, cioè forse su qualche cibo, ma non è quello, perché c'è preparazione e tutto. Sapete dov'è il profitto massimo di un ristorante? Nel vino. Io ve lo posso dire per certo, perché ho lavorato, ho avuto un business nel settore dei vini, ho lavorato in Liguria tantissimo, andavamo molto forte, facciamo numeri nella madonna, con il mio ex socio, e il ristoratore, che neanche lui lo sa, comunque ha la possibilità di avere il margine alto sui vini. Cioè il vino è quello che lo fa guadagnare che ha il margine alto, quindi devi avere un prodotto d'entrata che si possa pubblicizzare e va bene. E poi devi però sempre avere un, e dopo, e dopo un, hai ticket, un alto profitto, un alto margine, ok? Dove hai alto margine? Se vedi me, su questi webinar non ci sto praticamente guadagnando niente, anzi addirittura ti posso dire che tra le spese e tutto vado in perdita. Cioè se non vado in perdita sono pari, voglio essere sincero, perché comunque c'è tutta una serie di cose dietro che mi costa. Però il mio back end è venderti, cioè e dopo ti vendo il mio corso completo, 1000 euro. E dopo cosa ti vendo? La mia consulenza strategica legata al corso, che sono 2000. E c'è anche un e dopo, perché se vuoi che ti seguo tutto l'anno, come faccio con i dentisti, ne costa 8. Quindi c'è sempre un e dopo. Quindi quando tu, cioè poi volevo aprire una parentesi, io cerco e dico le cose in maniera semplice. A volte qualcuno mi dice, Marco però, sembrano cose banali, ma benvenga la banalità, ragazzi, perché con la banalità riesco a spiegarti un concetto difficile, che ti dico che per spiegarti questo prendi un libro di Kotler, divieni matto. Cioè prendi un malloppo così per capire questa cosa. Ok? Te la dico in maniera proprio terra terra di uno che ha avuto le mani in pasta nella merda per anni. Ok? È molto semplice se vedi. Devi avere un prodotto d'entrata e devi avere un prodotto ad alto margine. Puoi anche non avere il prodotto d'entrata se vedi direttamente il prodotto ad alto margine, perché io potrei non avere gli ingressi, però per dirti posso fare questo format, questo contenuto gratuito per istruirti, educarti e bla 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 fare tutto il resto. Quindi c'è una tecnica precisa per tutto. Oggi scarseggiano le view, ma perché un orario del cazzo lo sapevo, però ci tenevo a fare comunque questo video parlare della mia tecnica e dopo, perché è molto interessante. Ti spiega bene come deve funzionare il social selling. Funziona soltanto se tu sei in grado di dare un e dopo qualsiasi azione che tu fai. Ciao Fiorella, e tu che ci fai in giro a quest'ora? In realtà sono sempre nello stesso punto tutto il giorno. Pensate che noia. Però mi sono connesso adesso perché ho un impegno tra l'altro nell'orologio della Lego che voi non vedete, ma è qua dietro. Io dallo schermo vedo che sono le 18.22 e a breve devo andare. Quindi ho un appuntamento. non è più orario oramai. No Fiorella, in realtà mi piaceva trasmettere alle 19, perché le 19 penso che sia un orario comodo per tutti e anche comodo per me, perché stacco un attimino dal lavoro, dal produrre. Tra l'altro adesso con l'Academy, ragazzi, è una roba, praticamente è un corso enorme, cioè è proprio enorme, enorme. Sono sette step principali, sette corsi principali che racchiuderò in uno, quindi immaginate che mole di lavoro ho dietro. Un molone, un molare, come direbbero i dentisti. In più sto replicando la stessa cosa anche nel settore odontoiatrico. Sapete che ho due business, no? Oltre a questo qui, che è posizionato nel social selling, d'altra parte ho anche un business nell'odontoiatria strategica, quindi seguo i dentisti per la formazione marketing. È una cosa che è nata abbastanza naturale da quando ho preso, diciamo, strade differenti ultimamente. Avevo degli studenti privati, ho messo su un business e sto costruendo il brand. Ci vuole tempo, perché non mi conoscono, però ho già avuto ottimi risultati. Se andate a, andate a, se vi comprate per favore, per quattro spiccioli, sto cazzo di corso, le ads non servono un razzo, che praticamente io, è come se ve lo tirassi dietro, così ve lo tiro dietro a questo prezzo. C'è tutto il caso studio mio di quando ho iniziato un nuovo business in un settore sconosciuto e ho già ottenuto dei risultati della madonna. Cosa dice? Le 21 poco dopo è perfetto, ma sì, quello è anche un bel orario che mi piace, sai Fiorella, perché le 21 penso che sia buono perché le persone si possono mettere lì un attimino a magari prendersi la mezz'ora per comunicare un pochettino, per fare formazione, insomma. Sto provando un po' di format, anche perché, cioè, più che sto provando un po' di format, sto testando i format, a orari differenti. Anche perché magari uno può, invece di guardarsi uomini e donne, la sera, non so neanche la televisione, non potrei dirvi, non so neanche cosa ci sia la sera, però invece di vedere una cagata, magari si può parlare un attimino di business, di come migliorare, insomma, in generale. Mi piace come idea. Adesso proveremo a farlo anche alle 21, non è detto. Adesso mi piaceva le 19 anche come orario, perché è comodo. Vabbè, proveremo, proveremo ragazzi. Va bene, quindi ricordiamoci della strategia dopo, che è molto importante, cioè qualsiasi tu cosa fai nel tuo business, qualsiasi, qualsiasi cosa, chiediti sempre qual è l'azione che tu vuoi far fare dopo, ok? Al tuo potenziale barra cliente. E dopo cosa gli faccio? Dopo che ho fatto quest'azione pubblicitaria, dopo che ho fatto questo video, dopo che ho fatto questa sponsorizzata, cosa, e dopo cosa devo fargli fare? Quando scrivo un copy, quando scrivo una frase, quando dico una frase ai clienti, ma anche dal vivo, al telefono, quando faccio una consulenza, e dopo? Se non riesci a mettere il, le dopo, significa che sei bloccato in qualche parte, vuol dire che sei confuso con la tua strategia. È quello, eh. Quindi in realtà, seguimi, seguimi, follow me, metti like, fai share, e vediamoci la prossima volta, perché man mano metteremo in piedi queste cose, ok? Benvenga la banalità, ragazzi, benvenga. L'importante è che riusciamo a mettere in piedi con le quattro cose che servono per ottenere risultati, anche se sono banali, non mi interessa, dite quello che mi pare, però una volta che avremo in piedi con le quattro cose che funzionano, poi guarda, a complicarci la vita, è molto più facile, ok? A dirvi come andare a ottimizzare il CTR, il bid sulle facebook cards, bla 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 bla, si fa dopo, ok? Quello che vi dico sempre, facciamo quelle quattro cose. Ciao Fiorella, buon lavoro, buon lavoro. Facciamo quelle quattro cose fatte bene, facciamole funzionare, ok? Otteniamo una strategia completa che funzioni e dopo complichiamoci la vita, non prima, ok? Anche l'Academy, già ve lo dico, sarà, perché man mano comincia a parlarne, sarà un percorso completo per creare un business online che parte dai social, completo, ma si tratterà di una cosa che punta al sodo, quindi non sarà un pippone noioso, ma saranno, ehi, allora questa è la prima cosa che devi fare, questa è la seconda, devi costruirti un sito web, ok? Prendi questo, questo, quest'altro, metti questo e fai quello, punto. Sarà così, sarà così, sarà così, tutto schematicamente pratico passo passo, ok? Cioè proprio chiave in mano. Ed è quello che voi dovete riuscire a fare, cioè voi dovete semplificare la vita ai vostri clienti, dovete risolvere i problemi ai vostri clienti, dovete aiutarli in questo e dovete vendere un qualcosa che sia ad alto margine per voi, perché se no non avete i soldi, non avete i soldi da investire per fare tutto questo ambaradamo, va bene? Quindi ricordatevi sempre che ci sia un e dopo, un'azione successiva, è molto importante, è un altro concetto importante su cui magari ci posso fare un video, no, ve lo dico poi, si tratta comunque del copiare, magari ci faccio un video domani o quando scappa. Va bene ragazzi, allora vi saluto, grazie per le view, anche se oggi sono state delle view del cavolo, mi raccomando, sparate un po' di like per favore, perché dobbiamo pompare questa pagina e poi vi farò vedere, un giorno vi farò vedere i risultati dell'engagement della mia pagina, ok? Va bene ragazzi, vi saluto, buona serata e avanti tutta, ciao ragazzi!